Nevi molto abbondanti al nord, ma anche temporali, temperature molto alte al centro-sud con picchi record. Colonnello, cosa sta succedendo al clima? È davvero impazzito? Beh, diciamo che non c'è dubbio che l'aumento delle temperature sul pianeta rende più probabili certi eventi estremi, non solo nelle temperature, ma anche nella circolazione generale dell'atmosfera. Lo scirocco in inverno è una cosa ovvia e normale, ma uno scirocco così forte e così caldo non era da tenderselo, per cui ha portato temperature elevate su quasi tutta l'Italia, poi costretto a salire sulle Alpi, si raffredda di 10 gradi per chilometro e dal luogo, con l'elevata umidità che ha raccolto lungo i mari, ha forte e abbondante nevicate. Un grado in più nella temperatura media del pianeta significa aumentare di circa il 30% la probabilità che avvenga un evento estremo. Quindi ci dovremmo abituare a temperature molto calde in pieno inverno da noi e alle nevi sulle dune del Sara? Certo, questo potrà avvenire almeno, anzi, diverranno via via più probabili e più frequenti perché il global warming è in aumento, perché consumiamo petrolio in maniera ancora crescente, quasi una crescita esponenziale, quindi fino agli anni 2030-2040 avremo via via, di anno in anno, fenomeni più frequenti in termini di eventi violenti.